Ci ritroviamo insieme pronti ad un nuovo collegamento per andare a toccare un altro tema, quello della famiglia e della casa. Perché come, ecco, parafrasando Maria Pia un vecchio slogan, dove c'è famiglia c'è casa. Ecco, io penso che sia anche dove, proprio per ritornare agli antichi, dove c'è un uomo e una donna insieme, là già c'è la famiglia e c'è la casa. Bella, bella anche questa riflessione. Parleremo appunto di casa e di famiglia con Francesco Belletti, direttore del CISF, Centro Internazionali Studi Famiglia, per l'appunto, che è già in collegamento con noi. Lo vedete alla mia sinistra. Buongiorno, direttore. Bentrovato. Buongiorno a voi. Grazie per la sua disponibilità a passare qualche minuto con noi stamattina. L'occasione è We Home, un viaggio tra relazioni, affetti e luoghi della famiglia. Una mostra fotografica e una bella intuizione, direi, anche perché molte volte che cosa succede? Che diamo per scontato la bellezza che ci circonda e l'importanza anche di certi aspetti della quotidianità. Ma lascio a lei l'onore e l'onere di parlarci di questa bella iniziativa. Dunque, le intuizioni di partenza sono state due. La prima, direttamente dalla pandemia. Ci siamo accorti molto più di prima di quanto fossero importanti gli spazi dove abitavamo. Essere ristretti in casa per lunghe settimane, avendo un giardino, oppure avendo una casa in cui ogni persona aveva un angolino dove poter stare solo, ma magari un bel tavolo di cucina dove stare insieme, dove ricominciare a fare il pane. Ecco, abbiamo capito che gli spazi e i luoghi sono molto importanti. E abbiamo anche capito quanto sia importante che le nostre case siano aperte, cioè perché abitiamo in territorio. Ci piace tornare a casa perché siamo usciti, perché abbiamo altre relazioni. E quindi l'idea di raccontare poi questa dimensione di quanto metterci in casa significa fare famiglia. Quindi in sostanza le due parole è una parentela molto stretta. E per fare questo abbiamo fotografato dieci famiglie di situazioni molto diverse un po' in tutte le parti d'Italia, con due fotografi che hanno passato una mezza giornata insieme a queste famiglie, a volte hanno anche mangiato insieme a loro. Ed è venuta fuori questa bella mustra, molto solare, anche con qualche criticità. Non è tutto rose e fiori quello che succede in casa, però come dire, fare famiglia è bello e è importante che le nostre case siano belle. Maria Pia, che cosa ne pensi di questa iniziativa? Volevo chiedere subito, non all'esperto sul quale poi invece punterò un'altra domanda più professionale. Secondo lei potrebbe essere adatta anche quando nelle parrocchie ci sono i giovani che stanno facendo il corso, le coppie, per la preparazione al matrimonio? Potrebbe da quegli scatti nascere anche una riflessione insieme per prepararli? Ma sicuramente sì, le immagini parlano molto. Inoltre abbiamo strutturato la mostra in modo multimediale, quindi su ogni storia di famiglia ci sono anche due minuti di registrazione, per cui uno guarda le foto e ascolta la storia delle persone che ci sono. E abbiamo visto che funziona molto bene, anche le stesse famiglie che abbiamo fotografato hanno assistito alla mostra e si sono ritrovate. E certamente è una bella occasione per parrocchie, per centri culturali durante i convegni. La nostra mostra è itinerante, quindi vogliamo portarla in giro per l'Italia. E sicuramente per i giovani è anche un modo di vedere un pezzetto del loro futuro. Poi il loro futuro sarà unico e ripetibile, però possono vedere che le cose che succederanno nel futuro non sono solo lavoro incerto, non sono solo difficoltà, paura del futuro, ma possono essere cose belle. Lei da grande esperto di studi sulla famiglia, cosa ne pensa di quel filone della paternità che diventa sempre più in tarda età in realtà, una scelta in Italia. Sicuramente fa impressione, ci sono anche altri dati non belli che ci mettono in alto, proprio al primo posto in Europa. Ma uno di questi, cioè cambiare in pochi decenni, in fondo, il periodo in cui si diventa padri, che sta a lei naturalmente ricordarcelo, mi sembra abbastanza scioccante tutto sommato. Lei che ne pensa? Ma diciamo che è difficile combattere contro un trend che è abbastanza di lungo periodo e non solamente italiano. Cioè il ritardo della vita attiva, sia del lavoro, sia del matrimonio, sia della nascita dei figli, e oggi l'età media del matrimonio per il primo figlio è 33 per la donna, 36 per l'uomo. 36, diciamolo bene. 36 è tanto, nel senso che 30-40 anni fa a quell'età lì probabilmente si avevano già uno o due figli che stavano cominciando a crescere. Diciamo che la cosa più preoccupante di questa dinamica, oltre al fatto che il numero di figli diminuisce inevitabilmente, perché se uno ha il primo figlio verso 38-39 anni, dopo non c'è molto tempo biologico per poter fare anche un altro figlio, per fare un figlio in più. Ma soprattutto è l'idea che la tua condizione di vita adulta è rinviata, cioè i nostri giovani soffrono del rinvio, vengono parcheggiati in una specie di limbo, fanno fatica a diventare presto protagonisti del loro futuro. Se pensiamo a quelli che hanno inventato Facebook, a quelli che hanno fatto le più recenti applicazioni, su cui hanno fatto i miliardi, ecco, questa gente ha cominciato a 20 anni a sperimentare, a investire sui propri talenti. Ai nostri giovani si fa fatica a consegnare una responsabilità ai 28, ai 30, sembra sempre che non siano mai pronti. Ecco, questo è il dono avvelenato che le nostre generazioni hanno scaricato sui giovani. Direttore, io sono molto d'accordo con lei, perché tante volte scarichiamo la colpa sistematicamente sui giovani, ma non ci prendiamo le nostre responsabilità. Per cui questa riflessione mi sembra davvero bella, importante, opportuna. Mi auguro che i più grandi, a tutti i livelli, possano fronteggiare in maniera seria questa problematica che ha conseguenze davvero importanti sulla vita di tutti noi. I numeri parlano chiaro, quindi ecco, mi auguro che anche la mostra, l'iniziativa di cui stiamo parlando, possa fare il suo nel sensibilizzare in questa direzione, grandi e piccoli. E secondo lei, se ho un minuto ancora, Toni, qual è invece in tanti decenni l'aspetto che sta sorgendo, che lei intravede come novità in questi studi, che è soprattutto una novità positiva? Che cosa la sta sorprendendo di queste famiglie di oggi? Diciamo che ne vedo due, molto rapidamente. La prima è questo desiderio di verità e di libertà della persona. Tanti anni fa la libertà della persona era subordinata a una idea di famiglia-istituzione, un'idea di famiglia formale, che era più tipica della società borghese. Cioè, le persone dovrebbero sacrificarsi e sopportare. Oggi invece c'è una grande voglia di verità, che vuol dire rispettare i diritti. A nessuna donna può essere più chiesto di restare in una situazione di sofferenza o di maltrattamento perché bisogna difendere la famiglia. Quindi questa ricerca di libertà della persona è fondamentale, ma deve stare insieme anche all'idea che i legami sono la cosa più importante della vita. Quindi non bisogna liberarsi dai legami, ma bisogna costruire legami buoni. E poi l'ultimo pezzetto è che forse oggi i maschi, i giorni padri, hanno un po' di voglia in più di stare con i loro figli, di fare davvero il papà, e quindi magari investire di più sui congetti di paternità, dare più tempo, dare più soldi. Se il padre decide di restare a casa con il suo bambino piccolo, questo farebbe famiglie migliori, farebbe progetti di famiglia più possibili, anche per le donne, perché mettere al mondo un figlio non è una questione di donne, ma è una questione di coppie e di un'intera generazione. Molto bene, io ringrazio il sociologo Francesco Belletti, direttore del CISF, Centro Internazionali Studi Famiglia, per essere stato con noi stamattina. E ricordo che la mostra di cui abbiamo parlato, We Home, è pronta a viaggiare, perché itinerante è appunto, ed essere ospitata in parrocchie, centri culturali, istituzioni, per cui chiunque voglia farne richiesta può cercare i contatti del CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia. Grazie, direttore, e quindi auguri a tutti quanti noi per famiglie più felici e più belle. Grazie a voi, noi abbiamo il furgoncino pronto per venire a portare la mostra. Molto bene, molto bene. Grazie, grazie per la disponibilità, grazie per questo importante progetto e a risentirci a presto. Io do la linea alla regia, Maria Pia, ci ritroviamo subito dopo.